Mamma, mamma, Bernie mi ha rubato l'apparecchio! Cosa? Bernie, è vero hai rubato l'apparecchio a tua sorella? No, mamma! Certo che no! Bernie, tuo fratello dice che non è vero! Ma gli credi anche? Non lo vedi che ce l'hai in mano? È il mio apparecchio! Ridammelo subito! Nanna, hai detto che non lo volevi ed ora me lo prendo io! Bambini, non litigate per l'apparecchio! Su via! Oh, tesori! Ma se volete ve la presto io! La mia dentiera è sul comodino in camera, tesori! Eh, no, grazie, nonna! Bernie, tieni il tuo apparecchio! Ma guardate, qui ce n'è un altro! Cosa? Due apparecchi? Io non l'ho pagato! Ah, qualcuno se l'ha intascato! Povera dentista! Gli avete fregato l'apparecchio! Mamma mia, non si fa! Bisogna chiamare la polizia adesso! Cosa? Suonano alla porta? Aspettavate visite? Io no di certo! Sinceramente no! Ecco, io devo andare con i bambini a riprendere Pina e il signor Criceto! Cosa, mamma? Ma che meravigliosa sorpresa! Sentivo la mancanza di qualcosa e non riuscivo a ricordarmi che cosa fosse questo vuoto! Insomma, che ho nel cuore! E solo ora mi rendo conto che si tratta di Pina e del signor Criceto! Da qua! Potevi almeno lavarlo prima di metterlo! Oh, che schifo! Mi sono messa l'apparecchio che aveva indossato Bernie! No, siete fratelli! Non fare tutte queste storie per di più gemelli! La sua bava è uguale alla tua bava! Siete gemelli! Ben detto, mamma! Ma qualcuno non dovrebbe aprire la porta? Vado io, vado io, cari! Magari al postino faccio due chiacchiere, no? Arrivo! Arrivo un attimo! Oh, perbaco! Questa non me l'aspettavo! Cherry e Jenny? Bernice, Bernice, chi è? Forse la Cessa? Cessa, Cessa! Calmati, mamma! No! Sono Jenny e Cherry! Venite, cari, venite! Grazie! Grazie, nonna! Cosa succede? Perché siete qui? Non venite mai a trovarmi! Soprattutto tu, Jenny, e lo capisco perché sei figlia dell'amante di mio... Beh, del mio ex marito! Lo so, ma questa è un'emergenza! Rory è impazzita! Già, è proprio impazzita! Questa volta concordo con Jenny! Per un po' io e Jenny staremo qui! Cosa? Sì, ci sono stanze in più? Già, vorrei sistemare le mie cose! Cosa? A malapena c'è posto per noi in questa casa! Mi spiace, ma mi sa tanto che dovrete sloggiare! Cosa? Si parla così alla tua cugina preferita? Mi spiace, ma in camera nostra siamo già in tre! E non voglio dividerla con altre due persone! Siamo un po' troppi! Cosa? Cosa sta succedendo qui? Jenny? Cherry? Cosa succede? Ecco... È una situazione delicata e complicata! Rory è impazzita! Sono scappate di casa! Non è proprio così! Però sì, Rory è impazzita! La mamma è impazzita! E tu, Jenny, che cosa c'entri con Rory? Una madre ce l'hai? Cosa c'entra con te, Rory? Rory mi ha praticamente adottata per un breve periodo! Mio padre mi ha abbandonata lì! Cosa ha fatto Gianni? Sì, ha detto che ha troppo da fare, ha fatto rinchiudere in una clinica psichiatrica mia madre e mi ha affidato a Rory, che al momento è impazzita! Non ci posso credere, Gianni ha fatto una cosa del genere! Oh mio Dio, Gianni, sei stata abbandonata! Non ci posso credere, oh poveretta! Quindi, ora fai affidamento su Rory, che purtroppo ha perso il senno, la sua sanità mentale! Esattamente, perciò abbiamo pensato di venire qui, in rifugio da voi! Già, e tra un po' arriva anche Easy, ma stava cercando di depistare la mamma! Insomma, la sta intrattenendo! La mamma non deve accorgersi che abbiamo portato fuori gli scatoloni pieni delle nostre cose! E se volete darci una mano, li abbiamo lasciati in giardino! Cosa, cosa, cosa? Ora mi spiegate perché state scappando di casa! Credimi, ecco, Sky, non c'era altra soluzione! Insomma, abbiamo pensato ad un hotel, all'albergo, ma nessuno ci accetta perché siamo minorenni e non abbiamo la firma dei genitori! Quindi l'unico posto era casa vostra! Ok, ho capito! È un problema tra donne e non volete rivelare questo piccolo segreto davanti a tutta la famiglia! Perciò noi ora andremo in un bar a fare chiacchiere tra donne! Cosa? Ehm, non serve, Sky, vogliamo solo sistemarci! No, 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 voi non rimarrete qui finché non mi direte tutta la verità! Questa è la mia regola! In questa casa entrano solo le persone che mi spifferano i loro segreti! Punto! Venite? Oh mio Dio, zia Sky è anche impazzita! Vabbè, è sempre meglio di stare con Rory! Eh no, mamma! Ed ora chi mi accompagna da Pina? Sono tutte le vacanze di Natale che aspetto questo momento di rivedere Pina, Pina e il signor Criceto, no! Voglio andare a prendere Pina, Pina e il Criceto! Ti accompagno io, sono il tuo papà, posso fare qualcosa anch'io? No, con il papà no! Non fare i capricci, Bernie! Tu e Bernie andrete alla fattoria vegana assieme alla nonna! Sì! Perché? E io? Cosa faccio? Brian, tu pulisci casa? Andiamo, bambini! Andiamo alla fattoria vegana! E la cosa non mi fa di certo piacere, quella vecchietta è tutta strana! Allora, ditemi, qual è il problema? Perché Rory vi sta assillando così tanto? Non è una cattiva donna, insomma, è che si preoccupa sempre tanto per gli altri! Ehm, Sky, Rory mi ha voluta praticamente adottare! Non mi pare normale come situazione, ha detto a Liam che lui ha figli in giro con chiunque e ora che vuole lei adottare una figlia deve accettarlo! Capisci? Pensa di avermi adottata! Insomma, vuole farmi da madre! Perché ha detto che Brenda è una madre sciagurata! Certo che su questo non ha tutti i torti la mamma, insomma! Puoi ben dirlo, Cherry! Brenda è una madre sciagurata, Jenny! Questo non puoi negarlo! Rory su questo punto ha ragione! Sì, ok, ha ragione, ma... Io una madre ce l'ho anche se è sciagurata e Rory non può sostituirsi a lei! Certo, ma hai detto che è stata rinchiusa in una clinica psichiatrica, quindi al momento una madre non ce l'hai! Beh, sì, ma posso crescermi da sola come ho sempre fatto del resto! Lo hai sempre fatto perché hai una madre snaturata e ritorniamo al punto iniziale! Oh mio Dio, quindi dai ragione a Rory! Rory è una brava madre e si prende cura di tutti quanti! L'ha fatto anche con me, quando la mamma ha finto di essere morta, assieme a papà! Insomma, Rory mi ha cresciuta come una figlia! Poi ho preferito andarmene in collegio! Chissà perché? Beh, perché ho sempre amato la libertà! Diciamo così! Certo, il collegio ti lascia tanta libertà! Hai preferito un collegio allo stare con la mamma! Oh, ma non parliamo di me! Qui si sta parlando di voi due! Che cosa vi ha spinto a scappare di casa? La mamma vuole mandarmi dal ginecologo! Esatto, e vuole che ci vada pure io! Ma è una cosa imbarazzante, non esiste! Oh mio Dio, non siete mai andate da un ginecologo? Eh, no! No, di certo! È una cosa veramente imbarazzante, oh mio Dio! Ma non è imbarazzante! Insomma, il ginecologo è una figura importante per ogni ragazza che sta diventando signorina! Oh mio Dio, stiamo davvero affrontando questo argomento con Zia Sky in questo modo? Forse era meglio non dire nulla! Era quasi meglio rimanere a casa con Rory! Ragazze? Allora, era questo il vostro timore! Vi accompagno io dal ginecologo! Prendo subito appuntamento! No! No, Zia Sky! No, noi non vogliamo andarci! E perché mai? Un momento! Voi nascondete qualcosa! È per questo che non volete andare dal ginecologo? Perché il ginecologo scopre tutto? Ehm, no, non è per questo! No, assolutamente! Non stiamo nascondendo nulla! È la mamma che si è messa in testa che noi due siamo incinte! Oh mio Dio! State ripercorrendo le orme di vostra zia! Cioè, le mie orme! Oh mio Dio, anche voi incinte in giovane età! No! No, Zia Sky! No! Ecco perché siete scappate di casa, oh mio Dio! Vi capisco benissimo! Me lo ricordo, ero spaventata quando ho scoperto di essere incinta e non sapevo come dirlo a mio fratello, Liam! Insomma, è stato tutto molto imbarazzante perché ero giovane e non sapevo come affrontare la cosa! Ma poi mi sono detta, il tesoruccio amoruccio è al mio fianco, ci amiamo e quindi formeremo una famiglia con l'aiuto dei nostri familiari! Anche se all'epoca non parlavo ancora con mamma e papà, ma come vedete poi le cose si sono risolte! Ora la mamma vive persino con noi! Non è un lieto fine, Zia Sky! Insomma, vivere con la nonna è una scoreggiona! Già, effettivamente, non mi piace come finale! No, i bambini adorano la nonnina scoreggina e anche la bisnonna! Siamo una bella famiglia e non temete, io vi starò accanto! E quindi andiamo dal ginecologo! Oh mio Dio no, siamo scappate da mia madre apposta per evitare questa situazione! Perché ti dico che è impossibile che io sia incinta! Diglielo, diglielo anche tu! È impossibile, non lo so se è proprio impossibile! Jenny? Certo che è impossibile! Oh mio Dio, Jenny! Tu pensi di avere una possibilità di essere incinta? Oh mio Dio, Jenny! Ma, insomma, in ogni caso, ecco, non penso di esserlo! Oh mio Dio, Jenny! Ma ti dico di no, è impossibile, sono troppo giovane! Jenny non c'entra all'età, insomma, hai le mestruazioni! E già, quando una ragazza ha le mestruazioni, significa che è diventata fertile! E' pronta per essere una donna! Anche se sarebbe meglio aspettare, insomma, perché c'è la scuola, bisogna studiare, trovarsi un lavoro, bisogna complicarsi la vita come ho fatto io! Ma, Jenny! Insomma, non lo sai come funzionano queste cose? Certo che lo so, ma mi pare altamente improbabile! Oh mio Dio, Jenny! La mamma aveva ragione! Su di te, non su di me, ovviamente! Andiamo dal ginecologo, ragazze! Allora, figlioli, avete visto? Pina ha fatto amicizia con il gallo cedrone! Non avrà mica lasciato Pina assieme al gallo! Eh, certo che sì! Insomma, hanno fatto amicizia, vanno d'amore d'accordo, anzi direi, hanno proprio una storia d'amore! Oh mio Dio, Pina, ti sei innamorata! Piccolina mia! Ma ora come facciamo? Ti devo separare dal tuo amato! Oh no, è così triste! Non posso separare Pina dal gallo! E allora, che cosa vuoi fare? Vuoi lasciare qui Pina? Oh, voglio portarmi via pure il gallo! Cosa? Bernie, già è strano avere una gallina come animale domestico! Non prenderemo pure un gallo che oltretutto dà fastidio perché canta di mattina e mi sveglia! Non avrò un gallo! Madre, dov'è la mamma? Oh caro, sono fuori in giardino a giocare con le galline! Madre, di che galline parla la nonna? Madre! Oh Roby, sei qui, oh mamma mia! Mi ero dimenticata di te! Madre, dove hai preso il gallo? Roby, prima siamo andati alla fattoria vegana, abbiamo ripreso Pina, il signor Cricettino e anche il gallo perché Pina è il ragazzo! Non si dice che è il ragazzo, ha il gallo perché non è un ragazzo, è un gallo! Pina ha il gallo! Oh, e siete andati senza di me? Roby, ma insomma dov'eri? Al bagno! Ma se sei un robot non hai bisogno di fare quelle cose su via? Perché eri al bagno? Già mi dimentico di te! Se in più non ti ho davanti agli occhi come faccio a ricordarmi di portare in giro anche te? Già Roby, non puoi dare di certo la colpa alla nonna per questa sua dimenticanza! Dimenticanza? Non ci posso credere! Mi dimenticate sempre, non è giusto! E comunque Pina è incinta? Cosa? Cosa dici Roby? Le galline non rimangono incinte? Come no? Fanno le uova caro, fanno le uova, non lo sai? Eh? Roby è talmente intelligente che non so neanche come nascono i bambini, nascono dalle uova! Te lo posso assicurare caro? Anch'io ho partorito Belinda! Era in un ovetto sai Roby, ho fatto l'ovetto e voilà è nata la mia bambina, la covata Angelo! Stupidissimo Angelo! Cessa! 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 Non fate agitare la nonna per carità eh! Guarda come si agita, hai capito Roby? Quindi? Le galline fanno l'uovo! Sì, ma l'uovo viene fecondato! Insomma, una gallina e un gallo fanno i pulcini! Beh, però, ha del senso ciò che sta dicendo Roby, perché i pulcini esistono! È vero, io li ho visti i pulcini, i pulcini sono i bambini della gallina e del gallo, e quando crescono i pulcini diventano galline o galli! E se non volessero essere né una gallina né un gallo? Non lo so che cosa succede in quel caso! Smettetela di dire sciocchezze! Oh mio Dio! Pina forse farà i pulcini? Diventerò mamma? Oh mia Dio! Ah, farà l'uovo, oh cara! Fare l'ovetto è di sicuro il miglior modo di partorire! Farei anche un altro figlio? Eh sì! Bartolo, Bartolo! Mi è appena venuta un'idea, Bartolo! Oh, Bernarda! Per tutte le canonate del mondo! Di che idea si tratta, dolcissima Bernarda! Bartolo, guardami! Non sono Giovincella! Per tutte le canonate del mondo, Bernarda! Assolutissimissimamente no! Cosa hai detto, Bartolo? Ho detto che sei super bella, Giovincella! Ah, già meglio! E comunque porto ancora il pannolone e sono senza denti più giovane di così! Eh, hai capito? Ma certo, Bernarda Bernardone! E allora, Bartolo, facciamo un figlio? Ah, non ti bastano quelli che abbiamo avuto? Bartolo, come puoi essere così crudele? Vuoi che io rinuncia al mio senso di maternità? Insomma, ho avuto Belinda recentemente, ma guarda! Non è neanche più a casa, voglio un bambino mio piccolino! Caro, caro, un bambino piccolino! Oh, Bernarda Bernardone, che gli ha messo in testa un'idea del genere! Ah, papà, dai! Sono idee che poi si scordano! Ti preoccupare, non darle retta! Adesso abbiamo un problema qua! Come si fa con i pulcini? Che bello i pulcini! Oh mio Dio, dovrò pensare un sacco di nomi! Beh, bisogna aspettare che faccia le uova! Dopo si metterà a covarle! Le coverà e nasceranno i pulcini! Proprio come ha fatto Angelo, tesori! Oh, che ricordi! Angelo ha covato l'uovo con la dolce Belinda! Eh, allora... Non è detto che sia incinta, ok? Magari Pina è una gallina per bene, eh! Non fa le cose così! Prima di essere sposata non si mandano richieste alle cicogne senza aver prima effettuato il matrimonio! Di solito non si fa, ok? Ma potrebbe averlo fatto! Già, potrebbe averlo fatto, madre! Tu non lo sai che richieste ha fatto Pina alle cicogne! Eh, sì, ma magari no, insomma! Perché avrebbe dovuto chiedere alla cicogna di fare dei pulcini, insomma? Eh, lo conosce appena questo qui! Certo! È vero, concordo con la nonna! Da Pina questo non me lo sarei mai aspettato! È il primo gallo che hai incontrato! Ed è il primo gallo con cui hai fatto richiesta alla cicogna di avere dei pulcini! Questo da te non me l'aspettavo! Benditto, Benny, benditto! Ora separiamoli! No! Non puoi farlo, no! Hai lanciato il signor criceto! E sono sconvolto! Non si fa, hai maltrattato il criceto! L'ho preso, non vi preoccupate, sta bene! Poverino, ora ti allontano da mio fratello! Questa è la tua nuova casa, hai visto? L'abbiamo presa più grande! Non sta lì dentro! Per tutte le canonate del mondo, perché quello è un acquario! Pum, pum, pum! Cosa? È pieno d'acqua! Non è per il criceto! Ci hanno ingannato al negozio! Dai, va bene, tanto il danno è fatto, vai! Grazie, nonnina! Ed ora, rimedio subito all'errore che ha fatto Pina! Roby, io e te ora, abbiamo molto da fare! E cosa abbiamo da fare? Celebrare un matrimonio! Oh, mamma mia! Io sarò il prete, e per questo chiamerò anche Don Gino, che mi farà assistenza! Tu sarai il wedding planner! Ti occuperai di organizzare il matrimonio! Gina non può partorire, prima di essere sposata! Non si chiama Gina, si chiama Pina! Mi sono confuso! Sono simili come nomi! E lui come lo chiamiamo? Non lo so! Allora Pina potrebbe stare assieme a Pino! Ma non lo so, Pina e Pino, non mi piace! Oh, che criticone! Allora proponi tu un nome migliore! Lei si chiama Pina e lui potrebbe chiamarsi Osvaldo! Osvaldo? Non mi farò visitare da Norman! No, di certo, neanch'io! Ragazze, ma lui è un bravissimo dottore! E ci dirà se siete incinte oppure no! Cosa? Potreste essere incinte ragazze? Ma non è vero! Per me è assolutamente impossibile! Punto! Per lei, invece, c'è qualche possibilità? Oh mio Dio! Ora mi sento un po' preoccupata! Allora, Sky puoi attendere fuori? Vorrei parlare con loro! Oh, ma puoi dire tutto anche davanti a me! Sono la loro zia! Beh, non zia di Jenny, sono la sua sorellastra! Quindi sono di famiglia! Posso rimanere! Ma è per farle sentire più a loro agio! La zia può rimanere! Mia sorella può rimanere! Ok, allora, ragazze... Io vi devo spiegare che alla vostra età è complicato avere dei bambini! So che può sembrarvi bello fare una famiglia, ma siete troppo giovani! Potreste pentirvene più avanti e... Beh, volevo dire... Perché avete fatto questa scelta? Io non l'ho fatta, non sono incinta! Io non l'ho fatta e... Mi ci sono ritrovata in questa situazione! Jenny, tu lo sai come nascono i bambini? Certo! Ok, io rischio, vi lascio un po' di privacy! Norman, è un discorso che non occorre fare! Siamo grandi! Già, ma se siete in questa situazione vuol dire che non lo conoscete questo discorsetto! E io, in qualità di medico, devo informarvi! Oh mio Dio, Jenny, in che situazione mi hai messo? Non ti ho messa io, ci ha messa tua madre e poi tua zia! Che è tua sorella? Andrò a prendermi uno snack! Oh mio Dio! Skye! Rory, cosa ci fai tu qui? Cosa ci faccio qui? Ho chiamato Brian, gli ho chiesto se avesse informazioni su Cherry e Jenny perché a casa non c'erano! E Easy continuava a comportarsi in modo strano, mi sembrava che stesse cercando di distrarmi! Mi sono insospettita, perciò ho messo in punizione Easy e ho chiamato Brian, sapevo che avrebbe spifferato tutto! E Brian mi ha detto che tu le avevi portate qui perché l'avevi chiamato dal bar! Eri stata al bar con Cherry e Jenny per parlare di una questione delicata e da lì ho capito tutto! Oh mio Dio, Rory, sei davvero una detective? No, sono un agente segreto! Ok, a quanto pare sei brava! Sei riuscita a capire tutto questo? Sì, ma dove sono? Jenny e Cherry allora? Sono incinta e diventerò... Nonna, io divento... Nonna, oh mio Dio, a questa età! Oh mio Dio, sono già nonna! Ma no, sono con Norman ora! Ci dirà lui se aspettano un bambino, ok? Rilassati, ti prendo una merendina! Diventerò nonna! Nonna, ma io sono giovane per essere una nonna! Perché mi fanno questo? Io ho una nonna! Oh, Rory, su via, che sei già abbastanza vecchiotta! Benissimo, ragazze! Ora porto questi campioni a far analizzare! Domani avremo i risultati! Ehi, come domani? Non è immediato! Nei film si vede sempre che il risultato è immediato! Ma noi vogliamo essere sicuri, no? Al cento per cento! Perciò le analisi in laboratorio sono le più affidabili! Mi chiamerò domani! Oh mio Dio, e noi dobbiamo aspettare fino a domani! Vabbè, io tanto sono tranquilla! So benissimo di non essere incinta! E io? Oh mio Dio, che cosa farò? Salve, signora! Oh, ori, ciao, orori! Norman, aspetta! Dove stai andando con quei barattolini pieni di... Eh, ecco! Sto andando a farli analizzare! Cosa? Oh mio Dio! Non sai dirmi subito se... Ecco, le ragazze sono incinte! No, ori! Vogliamo essere sicuri! Calmati! Norman! Che c'è, ori? Norman, sono troppo giovane per diventare nonna! Saresti una nonna giovane! Carina! Brava, ori! Ori, hai visto? Non c'è di che preoccuparsi! Saresti una nonna giovane! E... Eh, è bello avere una nonna giovane! Oh mio Dio, c'è la mamma! Nascondiamoci! Cherry, pensi di nasconderti usando quel bambino! Cherry! Oh mio Dio, hai partorito! No, ehm... È di Jenny? Non è vero! L'ha rubato a quella signora, probabilmente! Ecco, dormi piccolo! Cherry, che spavento! Allora, come hai potuto? Mamma, calmati! E in ogni caso... Metti il caso che io fossi incinta! Non dovresti reagire così! Dovresti darmi il tuo supporto! Oh mio Dio, allora è vero che sei incinta! No, ma sto dicendo che stai reagendo male! Io sarei già preoccupata, insomma, da questa situazione! Dovresti darmi conforto! Ben detto! Davvero? Rory non si reagisce così? Mia madre, quando ha saputo che ero incinta, non ha mica reagito così! Mi ha portata in Corea e ha salvato la mia gravidanza! Devo esserle eternamente grata per aver salvato la mia gravidanza! Ma Cherry è piccola! Non ti preoccupare, Rory! L'importante è avere una famiglia alle spalle che ti aiuta! Ma io non sono incinta! Forse lo è Jenny! Ehi, Cherry, smettila! Non è vero! Allora, che ne dite di mangiare una bella pizza stasera? Bisogna festeggiare! Festeggiare cosa? Già, Sky, festeggiare cosa? Beh, è pur sempre una bella giornata! Sono tornata! Mamma, mamma! Allora, com'è andata? Papà ci ha detto tutto? Cherry e Jenny aspettano un bambino? Oh, non lo sappiamo! Ma la cosa bella è che sono tornati a vivere a casa di Rory e Liam! Oh, quindi non divideremo la stanza con loro? No! E poi? Oh, spero tanto che siano incinte! Come Pina! Eh? Cosa vuol dire che Pina è incinta? Vuol dire che Pina si sta per sposare mamma... Oh, dimenticavo! Sei invitata al suo matrimonio! Cosa? Kai, la nonnina vegana ha fatto un gran disastro! Ha fatto conoscere Pina e il gallo! Osvaldo! Sì, ecco, dicevo Pina e Osvaldo si sono fidanzati, ora potrebbe essere incinta! Aspettiamo dei pulcini! Cosa? Oh, mio Dio! Come faremo con dei pulcini? No! Preso! Ora mi devo fare proprio una camomilla, devo calmarmi! Tutti quei pulcini come faremo? Pina è stata birichina, ma Pina mi hai dato una gioia immensa! Diventerò mamma! No, diventerai nonno! Perché Pina è la tua gallina piccina, è la tua bambina, quindi diventi nonno! Cosa nonno? Alla mia età! Entrerò nel Guinness World Record come il nanno più giovane del mondo! Sì, mi pagano! Non penso! Sì, mi pagano!